All'ottavo giorno del Festival del Cinema di Venezia è la volta del secondo film italiano in concorso, L'intrepido di Gianni Amedio, con protagonista Antonio Albanese, che purtroppo però delude. La pellicola è incentrata quasi interamente sulla figura di Albanese, che veste i panni di un plurilavoratore ai tempi del precariato, che si ritrova a fare il rimpiazzo e quindi viene chiamato all'occorrenza per sostituire persone sul posto di lavoro. Con lui anche il figlio, talentuoso saxofonista ma effetto da crisi di panico, è una giovane ragazza sconsolata, il tutto ambientato in una Milano triste ed esolata. Nel gesto del padre c'è la spinta necessaria che la nostra generazione deve dare alla generazione che si affaccia alla vita e che è molto più fragile di noi. Noi abbiamo forse combinato anche qualche piccolo grande disastro nella nostra esistenza e abbiamo ricevuto anche delle batoste dure, ma non sappiamo quali batoste riceveranno loro. A scaldare gli animi rivoluzionari oggi ci hanno pensato le femen. A Venezia per presentare il film della regista Kitty Green, Ukraine is not a brutal, sulla verità dietro il movimento femminista che ha suscitato scalpore per le sue manifestazioni in topless. Questo film è la storia del movimento, questa è la vera storia che abbiamo chiuso di raccontare per il film di Kitty, è per questo che siamo qui, è per questo che siamo qui per commentarlo, siamo pronti per commentarlo, siamo pronti per parlare di questo, siamo pronti per mostrarlo come una delle combattie di famiglia. Le star internazionali del giorno sono invece i protagonisti del film Una promessa di Patrice Lacombe. Richard Madden, noto per la sua interpretazione in Games of Thrones, la bellissima Rebecca Hall e il veterano Alan Rickman. Un film tratto dal romanzo di Stefan Zweig ambientato ai tempi della Prima Guerra Mondiale che racconta la storia d'amore tra i due protagonisti. Non sono un specialista di Zweig, ma quando ho luo il libro ho visto molto molto la possibilità di mettere in place ciò che mi piace fare al cinema, cioè un film sui desir, sui sentimenti, sui emozioni, sui silenziali, sui non ditti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.